salve oggi facciamo biscotti arancia e cioccolato non impasterà Silvia perché Silvia in questo momento è sul divano non la vedete ma è sul divano che sta con la febbre ed è un po' influenzata e impasterò io oggi faccio i biscottini ricetta semplice ci vogliono 175 grammi di farina 75 grammi di fecola di patate un cucchiaino di tè date di lievito in polvere un uovo un pizzico di sale la buccia grattugiata di un'arancia 125 grammi di zucchero 125 grammi di burro 100 grammi di cioccolato la ricetta dice grattugiato grossolanamente io l'ho tritato con il coltello per avere i pezzettini più grossi iniziamo come si fa di solito setacciamo farina fecola e il lievito facciamo un buchetto al centro ci rompiamo nuovo il pizzico di sale lo zucchero la buccia grattugiata dell'arancia prendete solo la buccia non la parte gialla il resto vi fate una spremuta raccogliamo tutta la buccia mettiamo il burro a pezzettini il burro deve essere morbido se no poi vi è difficile da impastare e iniziamo a impastare iniziamo rompendo l'uovo e iniziamo incorporare tutto il resto degli ingredienti il cioccolato non si mette adesso perché sennò con le mani calde lo squaglieremo ma si mettiamo dopo appena finiamo di impastare questo a questo punto incorporiamo il cioccolato quella che sentite tossire sibie tutt'uolotta questa è una di quelle ricette che vi dicevo che iniziò a prendere dal dall'egiclopedia e non potevo che non iniziare con un dottimo un piattino vedi un piattino ok si e la pellicola facciamo una palla ti potete vai a toccare e ti pareva sì sì non ti ha visto nessuno sai stavolta ho visto che l'hai tutta e basta dai un altro pezzo mentre che c'eri la ricopriamo con la pellicola e la facciamo riposare in frigo per mezz'ora a dopo eccoci abbiamo preso la pasta riposato 30 minuti ecco prendiamo la farina in frigo e facciamo i biscottini con la pasta non 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Tiratele in modo da avere una pasta, una sfoglia di mezzo centimetro e non occorre nemmeno stampini e cose, questi stanno così. Il cioccolato a pezzi fa rumore. Cerca 3 cm x 6 cm. Mettiamo una pasta sulla carta al forno o una teglia imburrate e disponiamo ai biscotti. Un po' distanti tra loro. E mettiamo in forno a 200 gradi per 15 minuti circa. A dopo! E eccoci, si sono raffreddati, bene o male. Abbiamo messo 50 g di zucchero al vero setacciato e mettiamo il succo d'arancia. Poca alla volta. Per farla... Ok. Dovrebbe andare bene. Forse per chi la vuole. Va bene. Metti il ditino? Non metti il ditino. Ecco, vedete il ditino di silvia, anche se è ammalata. Quella c'è sempre. Non te lo faccio ditare. Ditare. Che vuoi? Ditino? E mettete la glassa sui biscottini. Dai ferma! Ecco, te pareva. Eh, buona! Interessante. Lasciate così, piano, finché la glassa si asciuga. A dopo! La glassa si asciuga.